Con lo scoprimento di una targa sulla chiesa di San Sebastiano si è conclusa la giornata di iniziative organizzate in città per il 200esimo anniversario del Parlamento Nazionale delle Due Sicilie. Un programma che ha visto la partecipazione del Presidente della Camera Roberto Fico con il Sindaco Luigi De Magistris ed una delegazione di studenti del Conservatorio e del Liceo Vittorio Emanuele II. Nel cortile dell'Istituto all'inaugurazione della targa commemorativa presente anche il professore di diritto costituzionale della Federico II Sandro Stajano. Il popolo di Napoli capì che non ne poteva più dell'occupazione, quindi questo ci fa riflettere se noi siamo quelli che sui valori fondanti della vita, la libertà, la giustizia, la fratellanza e l'uguaglianza noi ci siamo. E' vero che certe volte ci facciamo anche un po' opprimere, ci facciamo anche soffocare, però è un popolo che poi quando la storia bussa sa dove andare. E allora mai come di questi tempi dove veramente rischiamo di vivere oltre che una pandemia sanitaria, una pandemia psicologica, culturale, una crisi dei diritti e delle libertà, la scuola, la memoria, la storia, l'università, le istituzioni di prossimità sono fondamentali. Grazie a tutti.